Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Il video di oggi sarà dedicato all'inverno e sarà un video con tre outfit dedicati all'inverno Finalmente sono tornata a casa come potete vedere e quindi sono riuscita a registrare dei video riguardanti degli outfit che potete utilizzare in questo periodo invernale Sono stracontenta perché avevo proprio voglia di indossare cappotti, di indossare maglioni, di indossare vestiti invernali Quindi avevo proprio voglia di fare questa cosa, quindi sono stracontenta di essere riuscita a girare questi outfit Ne arriveranno altri perché ogni giorno quando faccio delle cose cerco di filmare diciamo quello che sto indossando Proprio perché voglio cercare di accumulare un po' di video outfit da potervi mostrare nel periodo invernale italiano Anche quando tornerò poi in Arabia dove invece sarà primavera Quindi semplicemente cercando di accumulare un po' quindi sto cercando di registrare il più possibile video outfit eccetera eccetera Anche perché sapete che non solo piacciono a voi ma piacciono tantissimo anche a voi A me sono fondamentalmente i miei tipi di video da postare su youtube preferiti in assoluto E sapete anche che ho dovuto stoppare per un certo periodo tra novembre e dicembre Quando ero in Arabia ho dovuto stoppare i video outfit semplicemente proprio perché ero impossibilitata Non avevo abbigliamento invernale quindi non avrei avuto nulla da farvi vedere E quindi sono molto contenta perché finalmente arriviamo con questo lookbook invernale E niente io vi lascio i tre outfit, sarà un video breve perché ho deciso di evitare di fare video super lunghi con gli outfit eccetera eccetera E anche perché so che vi piacciono in realtà di più parlati però in esterna spesso non riesco perché magari non riesco a parlare e mostrarvi l'outfit semplicemente perché magari c'è rumore Ci sono le macchine che passano, gente che parla eccetera eccetera quindi non riesco a parlare quindi descrivervi l'outfit Quindi spero che apprezzate comunque il lookbook che vi dia comunque qualche spunto E niente mi raccomando lasciatemi come al solito qualche commento e fatemi sapere qual è il vostro outfit preferito Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.